Un settore sempre più sostenibile sotto il profilo eco-energetico e ambientale nelle coltivazioni, tagliando l'uso di agrofarmaci e fertilizzanti, nonché riducendo le emissioni di CO2 anche grazie all'utilizzo di fonte energetiche rinnovabili come biogas e fotovoltaico. E' così che si realizza l'agricoltura 4.0, mediante l'intesa fra il Ministero per le Politiche Agricole e la Philip Morris, che prevede investimenti fino a 100 milioni di euro nel 2022 per la filiera agricola del tabacco nel nostro paese. L'accordo, firmato dal sottosegretario Gianmarco Centinaio con Delega al Tabacco e dal presidente ed amministratore delegato di Philip Morris, Marco Annappel, punta a supportare la coltivazione del tabacco Burley e del Virginia Bright, nei quadri di un piano di investimenti fino a 500 milioni di euro in cinque anni, con il coinvolgimento della Coldiretti e dell'Organizzazione Nazionale Tabacco Italia. L'eurodeputata Camilla Laureti Umbra, al rinnovo anche per il 2022 dell'intesa fra il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Philip Morris per la promozione della filiera tabacchicola in Italia, ha detto che l'accordo che si rinnova simboleggia un avanzamento nel percorso avviato da Philip Morris per promuovere e rendere più sostenibile in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo la filiera del tabacco in Italia. Anche l'assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni interviene in merito all'importante accordo seglato tra il Ministero delle Politiche Agricole e Philip Morris per lo sviluppo della filiera tabacchicola in Italia. L'Umbria, sottolinea l'assessore Fioroni, diventa sempre più protagonista della filiera in Italia. Questo è il messaggio che arriva dall'accordo che prevede un investimento da 100 milioni di euro in Italia rivolto a mille imprese agricole di Umbria, Campania, Veneto e Toscana.